Tre punti a testa per Martinsicuro e Ammiternino. E' questo il bottino raccolto dalle due squadre che si affrontano oggi al Tomolin, le prime quattro giornate di campionato. A caccia della prima vittoria stagionale, la squadra di Di Fabio ritrova dal primo minuto il bomber Maio. Andiamo in cronaca, quinto minuto, inizia subito la sua serie di affondi, il numero dei sette dei locali di Giorgio. Ammiternino dal canto suo non sta a guardare con il baby classe 98, ma Zafero risponde. Attento osso al undicesimo. Bel tiro di Ferretti al quarto d'ora, sarà uno dei migliori in campo, ma il gol arriva al minuto 19, a fondo dalla sinistra ancora di Ferretti. Palla che arriva sul secondo palo dalle parti di Di Giorgio, che non perdona Tomarelli. Martinsicuro in vantaggio. L'uomo più pericoloso dei giallorossi, ma Zafero due minuti più tardi prova subito a pareggiare i conti. Deviazione di De Cesaris decisiva. Sfortunati anche Terriaca e Salvi, che alla mezz'ora vanno vicini anch'essi al pareggio. Minuto 44, a seguito di uno schema da calcio piazzato a Ammiternina, contatto Carboni-Torelli. Per Giampietro Di Pescara è calcio di rigore, che è il bomber capocannoniere della passata stagione, Valerio Terriaca. Trasforma. Incitamento costante del gruppo organizzato fronte Trondo, che spinge il Martinsicuro anche nella ripresa. Gol annullato a Maio per segnalazione dell'assistente Caporali, che ravvisa un offside. Ancora Maio nel secondo tempo cresce assieme a tutto il Martinsicuro. Entrano anche Nepa e Picciola, ridisegnato l'assetto tattico da Di Fabio. Qui Nepa bravissimo a vedere a centro aria De Cesaris. Sua conclusione deviata in angolo. Anche la Ammiternina nelle ripartenze prova a fare male. Qui con Terriaca, attento osso alla mezz'ora. Maio ci prova numerose volte senza mai colpire. Qui il neo entrato al trentottesimo Ferrari. Manca da due passi il tapin vincente, che arriva però al minuto novantaquattro. Rimette al centro una bellissima palla Ferrari. La Ammiternina non spazza via la palla. Latini ringrazia. Martinsicuro tre punti d'oro per la squadra di Di Fabio. Sì, era importante per noi trovare... Trovare tre punti perché soprattutto per il morale di questi ragazzi, perché stanno lavorando con grande intensità, con grande voglia. Purtroppo i risultati per una cosa o per un'altra non stavano venendo. Quelli che magari sono quelli che ti fanno star bene, che è la vittoria. Oggi nell'unico forse tiro in porta, chiamiamolo così, episodio che si sono presentati davanti l'area, gli hanno dato rigore, non so neanche valutarlo, capite così. Ed era un peccato non riuscire a vincere questa partita. Dopo i ragazzi ci hanno creduto, fino alla fine non hanno mollato niente. E penso che sia il giusto coronamento per la prestazione che hanno fatto. A partire per 85 minuti siamo riusciti a tenere bene il campo. Abbiamo rischiato pochissimo, abbiamo fatto delle buone ripartenze. A tratti anche condotto il gioco. E poi gli ultimi 5 minuti e più 5 minuti di recupero, quando loro hanno iniziato a mettere questi palloni in aria, lunghi, da dietro e creare mischie. Quindi un po' di compusione in aria, non siamo stati capaci a gestire la situazione, siamo disorganizzati, non siamo stati capaci di tenere palla davanti e neanche di ripartire con gli due esterni che erano freschi e erano appena entrati. Quindi diciamo 85 minuti bene, 10 minuti, gli ultimi 10 minuti male male male, soprattutto sotto il profilo dell'attenzione. Perché l'ultimo gol è venuto una palla nostra in aria, volevamo uscire palla al piede, abbiamo perso palla e ci hanno fatto gol. Quindi un gesto condannabile e per il resto dobbiamo ripartire dai 85 minuti fatti qua, cancellare subito la prestazione degli ultimi minuti.